siamo in dimostrazione car tablet dedicato hyundai x35 9 pollici 6 giga di ram rom 128 giga apple carplay android auto adesso siamo nella sezione apple carplay dove il cliente potrà gestirlo sia vocalmente consigli oppure manualmente come adesso eseguiamo noi ricordiamo che il cliente potrà cambiare gli sfondi basterà cliccare lo sfondo che desidera lo conferma e poi torna indietro queste sono le impostazioni del carplay e poi abbiamo tutte le funzioni se voi volete arricchire il vostro pacchetto carplay per dire inserire la radio digitale che si chiama radio player andate sul vostro smartphone scaricate radio player e quando collegherete l'apple carplay al vostro monitor comparirà qui la radio digitale radio player cosa che adesso non c'è ma vi compariranno le icone come queste qui andiamo sul navigatore possiamo gestire musica musica e navigatore nello stesso tempo come vedete poi come detto vi potete scaricare la radio digitale potete usare maps insomma ci sono whatsapp ci sono varie informazioni che potete usare adesso noi usciamo da apple carplay e andiamo usare android per uscire da apple carplay abbastanza semplice usiamo il tasto auto e poi andiamo ad attivare il wifi del cartabit potrete inserire o una sim perché noi abbiamo uno slot sim su questo cartabit e non dovete fare questa operazione che facciamo noi perché se avete la sim quando andrete su android avrete sempre la connessione oppure attivate lo spot del vostro smartphone e andate a dare la connessione wifi al nostro prodotto e qui entriamo nel mondo android dove abbiamo la gestione radio ovviamente abbiamo recuperato anche i comandi al volante ricordiamo che noi diamo anche la gestione vocale del cartabit ma per i clienti che hanno apple carplay e usano il vocale apple carplay sconsigliamo di usare i due sistemi operativi sia gestione vocale android che apple queste sono le stazioni in memoria torniamo indietro abbiamo usato i comandi al volante e poi qui abbiamo le varie icone che potete personalizzare per dire se volete togliere bluetooth potete cliccare e andare a inserire l'app che a voi vi interessa in questo caso stiamo su maps adesso ci chiede di fare l'aggiornamento quando verrà il cliente metteremo l'account google andiamo ad aggiornare tutte le app qui siamo su youtube possiamo eseguire anche lo split screen andiamo a mettere il navigatore per il guidatore in modo che sempre concentrato e non si distrae e qui andiamo a mettere youtube per i per i passeggeri adesso ci dà questa informazione perché va aggiornato un'altra giornata comparirà la cartina comunque potete decidere voi le app che volete usare abbiamo gestione audio e video tramite le usb stiamo vedendo un video sempre per i passi i passeggeri gestione audio possiamo gestire cartelle contenuti abbiamo un processore sonoro di alta qualità dove il cliente potrà personalizzare tutto il pacchetto sound impostazioni veicolo a secondo degli option della macchina potremmo andare a fare alcune impostazioni qui abbiamo il linguaggio abbiamo recuperato anche la retrocamera e l'amplificatore originale questa è la retrocamera poi chi vuole le linee guida possiamo mettere anche le linee guida per quanto riguarda l'amplificatore originale vi faccio sentire quindi ricordiamo che per tutte le chia che hanno l'amplificatore subwoofer originale con questo prodotto lo andiamo a recuperare io vi ringrazio tutti i nostri prodotti sono disponibili verso il nostro shop un saluto a tutti voi e rimango a disposizione